Il comandante di ASC Fantasia, il comandante Mattia Manzi Buonasera a tutti Buonasera Buonanotte Buonanotte buon pm ciao Ciao, 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 bene, ho detto prima in italiano perché sono pochi italiani, in nome della MSC, tutto nel pancio, io, hombres, vi faccio il benvenuto a porto, grazie. Per lo spagnolo, in nome della MSC, tutto sulla tripulazione al capitale, un benvenito al bucchis, grazie. Per l'inglese, on the earth, MSC, cusate, my self of chance, staff in group, wish you were come on board, thank you. And now on the French and Germany and the Japanese. Madame, Monsieur, le comandant, le on de la compagnie de tous les officiers et l'équipage de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord du Fantasia. Madame Noter, Pierre Capitaine, in nome de la radio, officier de la desample besazzo, benchen, et est chéphilcombe à Bord. So, ladies, Presidente, let's speak with a big round of applause, a grande e forte applauso for the senior officers, head of departments. Secondo maggiore dei campi di palpino, dovendessi in fantasia. And the last biggest round of applause is for our extension, the senior officers, head of department, Andy. The senior officers, head of department, state maggiore, campi di palpino, kick comandante, le on de la compagnie de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord de la Présidente Rosa. toff La Pré-League de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord de la Présidente Rosa, bienvenue à Bord de la PrésidenteES, un monte de vandaag de bébis de l' mallet, qui rêva un froid, fortement considération. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.